Ciao a tutti, buonasera a tutti, una breve live questa sera, una breve live pre-tango, prima del tango, insomma, quindi sarà una live breve, per parlare però di un argomento, di un tema che secondo me è un tema importante, che è il tema dell'indipendenza emotiva, che tra tutte le forme di indipendenza è secondo me una delle forme principali, è una delle forme principali per quale motivo? Perché noi siamo comunque costretti a viverci delle emozioni, bravo Alessio 01, saluto un po' di persone, Alessio 01, bravo Alessio, e poi Chiara, Federa, Jessica, Raffa, Massimo B, Dana, ecco un po' di persone, comunque, allora, grazie Patrizia Venturi, grazie Patrizia, comunque, quindi stavo dicendo, noi tutti, tra le varie forme di indipendenza, quella che dobbiamo conquistarci sicuramente è l'indipendenza emotiva, per un fatto che comunque dobbiamo sperimentare delle emozioni, perché siamo fatti in un modo tale per cui non possiamo evitare di sperimentare le emozioni, non so se per un motivo evoluzionistico, probabilmente anche per un motivo evoluzionistico siamo costretti a sperimentare delle emozioni, ovviamente le emozioni sono energia, è energia che si muove dentro di noi, non possiamo fare a meno di non sperimentarle e quindi se non siamo in grado di autoprocurarcele, tra virgolette, saremo dipendenti di tutti quelli che ci procurano emozioni e saremo, la dipendenza emotiva, la dipendenza emotiva è addirittura, secondo me, una forma di dipendenza, salutiamo anche Don Matteo, Maria Lamela, la dipendenza emotiva è una forma di dipendenza molto forte, e quasi potremmo dire non è una tossicodipendenza, ma comunque è una dipendenza tossica, nel senso che ci rende comunque schiavi di chi? Del pusher emotivo, quindi noi se non siamo in grado di diventare freelance emotivi, come dice Don Matteo, se non siamo in grado di diventare autogestori, diciamo così, di gestirci la nostra emotività, di conoscerla intanto, di conoscere le nostre emozioni, di non avere paura delle nostre emozioni, perché spesso noi temiamo le emozioni, e avere paura delle emozioni è la cosa peggiore che ci possa capitare, Francesco, Tizzi Jaguar, Sustizio, saluto un po' di persone, e quante persone temono e hanno paura delle loro emozioni? Sono tantissime le persone che temono le loro emozioni, perché sembra quasi che ci siano dei meccanismi di difesa talmente forti che non appena una persona si vive un'emozione negativa deve subito frustrarla, deve subito frustrarla, non riesce a viverla. Quindi il primo modo per diventare indipendente dalle proprie emozioni è non aver paura di viverle. Cioè se una persona viene abbandonata e ti vivi l'abbandono, molte persone perché sono state lasciate dal fidanzato o dalla fidanzata vanno dal medico, vanno dal medico come se fosse una malattia. Cioè mi ha lasciato la fidanzata, mi ha lasciato mio marito, mi ha lasciato mia moglie, mi ha lasciato, cosa fanno? Vanno dal medico, dal medico della mutua, se stai a pezzi per le donne, tizi Jaguar, devi fregartene, devi fottertene, delle donne, devi fregartene, tizi Jaguar, sta a pezzi. Stai a pezzi appunto, la fine di tizi Jaguar vai a fare. Allora, se vanno dall'abbandonata, no, vanno dal medico della mutua prima, cioè qua, là, ho queste cose qua, il medico della mutua dice vabbè vai dallo psichiatra, se è così vai dallo psichiatra, ti mandano dallo psichiatra e una volta che sei arrivata lì, io ho messo in casa Pongo, mi soffio il naso, lo psichiatra che per lui non vede l'ora di darti qualche farmaco che ti anestetizza le emozioni, Isabelle è grande, qualche farmaco che ti anestetizza le emozioni, non vede l'ora di darti qualche farmaco che ti anestetizza le emozioni, e allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu a quel punto lì l'emozione non la sperimenti più, ma non è che non sperimenti più l'emozione, ecco questo è un concetto fondamentale, non è che non sperimenti più l'emozione, non la sperimenti più a livello logico-razionale, cioè non viene più fuori, la tieni dentro schiacciata, ma non è che prendere un farmaco ti elimina la causa, ti elimina l'effetto, quindi tutto quello che facciamo è andare a agire sull'effetto, non sulla causa. E allora è come avere un dente cariato e anziché farsi curare il dente cariato, ti pigli un antibiotico, un antinfiammatorio che ti fa passare il dolore, e ti fa passare il dolore, ma la cari aumenta, quindi la prossima volta sentirai ancora più male. Tutti influenzati, bene, bene. Ma ecco, ad esempio, Patrizia Ventura, io amo uno con la sindrome dell'evitamento, poi mi piace, cioè amo uno con la sindrome dell'evitamento. Ma smettila! Smettila tu, amo uno con la sindrome dell'evitamento, piantala lì, piantala. Come fai? Cioè, vuol dire, a parte che sta sindrome, vabbè, ognuno fa tutte le sindrome che vuole, che mi sto curando male. Come non c'è traccia di guarigione? Sto prendendo di tutto, sto prendendo anche il bisolvone, vi faccio vedere, vabbè, no, non c'ho voglia. Comunque, sto prendendo anche un farmaco per sciogliere. No, sto molto meglio adesso. Sto molto meglio, ho preso antibiotico, tutto, tutto con auto-prescrizione, però ho preso tutto. Allora, comunque, quindi, sto molto meglio, sto molto meglio adesso. Sto come ero prima, però no, mi sento meglio. Allora, la sindrome dell'evitatore. Ecco, uno dice, mi sono innamorato di uno con la sindrome dell'evitamento. Cioè, la sindrome dell'evitamento, poi, un nome che diamo a uno che se ne fotte di te e non ti cercano. E allora, ecco, questa cosa della sindrome dell'evitamento è interessante, no? Perché è un modo per giustificare il comportamento di un altro. Beh, quello lì non ti caga, cioè, ah, ma ci avrà la sindrome dell'evitamento e quindi io sono a posto. Cioè, sono a posto, giustifico il fatto di stare con uno che non mi caga. Quindi dobbiamo smettere con la sindrome. Se uno non ti caga, non ti caga. Non è che ha la sindrome dell'evitamento. Perché se no uno dice, ho la sindrome del deficiente che sta con uno che non lo considera. Perché poi c'è anche da dire questo, no? Quindi la sindrome dell'evitamento non esiste. È il malo scuro che non esiste, diciamo così. Noi diamo i nomi alle cose per... Esatto, evita te. Diamo i nomi alle cose, alle situazioni, per trovare una giustificazione. Cioè, io sto con uno che ha la sindrome dell'evitamento. Io sto con uno che ha la sindrome del... Mi vuole vedere solo una volta al mese. Che sindrome ha? Ha la sindrome del once a month, in inglese. Vedi, Don Matteo, che ho imparato anche l'inglese. Ha la sindrome del once a month, una volta al mese. È una nuova sindrome che ha questa persona, per cui mi sono innamorato di uno, con la sindrome del once a month. Notate la pronuncia in inglese. E quindi ha la sindrome del faccio cosa voglio. Quando voglio e non mi stare a rompere i maroni. Esatto, once a month. Quell'altro ha la sindrome... E questa mi piace come sindrome. Ha la sindrome del faccio quello che voglio. Quando voglio e non mi rompere i maroni. E' importante quindi tutto questo, renderci conto del fatto che noi siamo in situazioni paradossali. Ci mettiamo in situazioni paradossali. Ci mettiamo in situazioni paradossali e dobbiamo renderci conto che non dobbiamo dire, credere che le persone abbiano tutte queste sindrome. Dobbiamo renderci conto del fatto che se non ne frega niente, noi, il colpo è nostro che ci innamoriamo di gente che non ci considera. E' perché purtroppo la gente che non ci considera ci dà emozioni. Ci dà emozioni. Se una persona non ti considera, ti dà emozioni. E chi ti considera che non ti dà emozioni? Quello che non ti... Sì, vado a Tango stasera, Isabel Nastase. Vado in un paesino qua vicino a Savona. Un paesino vicino a Savona. Che si chiama Valleggio. Valleggio. Ma cinque chilometri da Savona. E comunque, quindi, tra un quarto d'ora finisco la live e vado. Quindi dobbiamo tenere presente... Allora, Silvia Sissi dice se, se. Che cazzo? Io Silvia Sissi non... Secondo me Silvia Sissi il pusher, che ogni tanto devi cambiare pusher, perché il pusher a cui ti rivolgi attualmente ti dà prodotti molto scaduti, Silvia Sissi. Cioè, trovati un pusher migliore, perché ti dà prodotti che sono di... Scarsi, scarsi. Oh, abbiamo anche Stefano Gatto. Abbiamo anche Stefano Gatto. Ciao Stefano Gatto. Stasera dicevo Stefano vado al... al Tango Festival di Savona. Pre-Tango. Pre-Tango. Perché il Tango Festival poi è ad aprile, ad aprile. Quindi, comunque... Quindi, che stavo dicendo alla fine? Stefano Gatto, il malgachò. Esatto, Stefano Gatto è il malgachione doc. Perché... Stasera approfondimento telefonico con qualcuna è un mio sentore, Massimo Tugui. ma Silvia Sissi secondo me tu ti cali degli acidi scaduti da tempo. Secondo me Silvia Sissi ti cali degli acidi scaduti da tempo e hai queste cose qua. Boh, io non so. Comunque, lasciamo Silvia Sissi e i suoi deliri e lasciamo perdere veramente questi... questi... diciamo... cose... gli acidi scaduti che si cala a Silvia Sissi. comunque... possiamo fare una cosa faccio due foto Silvia Sissi non lo so due foto lì del coso e per... vabbè lasciamo perdere comunque andiamo avanti Silvia Sissi e gli acidi scaduti allora comunque e quindi noi dobbiamo tenere presente questo che esatto Gel Miró esatto hai ragione Gel Miró brava ogni tanto Gel Miró mi porta alla realtà anzi guarda adesso diamo la chiave Gel Miró appena te l'avevo già data la chiave Gel Miró vediamo un po' di dare la chiave a Gel Miró qui la salute che se ne va allora diamo la chiave a Gel Miró vediamo un po' continuo qua Gel Miró e anche a Betty Kotick ok quando c'è la salute quando c'è la salute c'è tutto ma certo che vado dove mi pare certo che vado dove mi pare però cioè io Silvia Sissili che manco conosco Silvia Sissili che manco conosco viene a dire stasera a parte che faccio il cavolo voglio cioè veramente è al limite del io ci rido sopra però cioè è veramente una una come dire non lo so un acido calato rancido proprio comunque sì ma poi se io dicessi che vado che ne so all night sarebbe a fare i miei cioè nel senso anzi quasi quasi vado al night no Silvia Sissili stasera dico di andare al tango ma vado al night dove ci sono tutte le malgascione le malgascione vado al night delle malgascione stasera allora quindi comunque tornando tornando al al discorso precedente stasera night con malgascione che era gelmirò night con malgascione ti senti con baghera pantera esatto ma io e baghera la pantera siamo fidanzati Silvia Sissi non lo sai ah vi annuncio che mi sono fidanzato con baghera la pantera non sapevi Silvia Sissi siamo fidanzati oggi allora andiamo avanti col discorso che non ci voglio perdere tempo in idiozie allora quindi anche perché ho poco tempo davvero quindi tornando al discorso precedente tornando al discorso precedente tornando al discorso precedente e riprendendo quindi il discorso il discorso di prima allora tornando al discorso di prima noi se vogliamo diciamo superare quindi questi queste situazioni quindi non entrare più in in situazioni paradossali dove ci nutriamo di emozioni spazzatura dobbiamo imparare a dobbiamo imparare dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni il primo punto per gestire le nostre emozioni il primo punto per gestire le nostre emozioni è quello è quello di non avere paura delle emozioni non avere paura dell'abbandono non avere paura del rifiuto se una persona mi abbandona questo abbandono devo vivermelo è importante viverselo indipendenza emotiva è importante viversi l'abbandono se uno te lo somministra ma viverselo in modo positivo perché imparare a sperimentare le proprie emozioni sulla propria pelle è fondamentale per potersene liberare perché io le conosco e se le conosco vedo che non sono così cattive le emozioni vedo che non sono così cattive le emozioni sono le emozioni sono positive le emozioni sono veramente positive se io riesco ad entrare ad entrarci in contatto posso vivermi l'abbandono posso vivermi il rifiuto e nel momento in cui le conosco le capisco non ne sento più non mi fanno più tutta questa paura perché purtroppo sono i nostri meccanismi di difesa che noi adottiamo che fanno più danno delle emozioni negative stesse e più adottiamo meccanismi di difesa più le fortifichiamo più le fortifichiamo cosa vuol dire che più le fortifichiamo vuol dire semplicemente che se noi cerchiamo di difenderci e prendere ad esempio il farmaco che anestetizza tutto in realtà andiamo a fortificare quell'emozione nascosta è come se buttiamo le briciole sotto il divano e sporchiamo di più la casa e ogni volta anziché pulire la casa buttiamo sempre le briciole sotto il divano certo che non vedi Pascio non ha più la chiave perché non ha più voluto lei perché eliminava persona muzzo mi ha chiesto a lei di togliere problemi con il cellulare mi ha detto questo per rispondere a ciuto quindi questa cosa è importante non dobbiamo avere paura avere delle proprie emozioni vuol dire avere paura di noi stessi avere paura di noi stessi avere paura di una nostra parte se invece una persona inizia se invece una persona inizia a diciamo se una persona inizia a stare in sintonia con se stesso se una persona inizia a viversi bene le emozioni anche a sentirsi la sofferenza questa sofferenza scoprirà che si scioglie si scioglie come neve al sole e nel momento in cui la sofferenza se ne va via tu non hai più tu non hai più diciamo paura di essere abbandonato o paura di essere rifiutato perché sai cosa ti aspetta sai cosa ti aspetta viversi viversi sì bisogna farsi amica la parte emotiva ma anche viversi proprio non anestetizzare più le anestetizzi più le fortifichi se cerchi di mettere la testa sotto la sabbia fortifichi tutto quindi se consapevolizziamo a cosa si aggancia il dolore possiamo vivere come risorsa sì questo per rispondere a Lady Elvira che saluto se noi impariamo a viverci le nostre emozioni senza chiuderci cioè vivo un dolore vivo una sofferenza me la vivo caro abbandono non ti anestetizzo ti vivo ti sperimento in questo momento nel momento in cui io me lo sperimento me lo sento addosso me lo vivo certo in quel momento li sto male ma poi piano piano sento che questo male passa sento proprio perché posso anche darlo ci sono delle tecniche no perché ovviamente un'emozione ha degli effetti diciamo sul nostro fisico sul nostro corpo e se ci facciamo caso scopriremo che l'emozione che noi sentiamo è collegata a uno dei chakra a uno dei cinque chakra principali e noi questo dolore ce lo possiamo anche sentire sul corpo alcuni lo sentono al petto alcuni nella pancia alcuni nella gola alcuni alla testa quindi nel momento in cui tu senti proprio il dolore fisico puoi anche farlo diminuire scioglierlo puoi immaginarti puoi immaginare questo dolore come una una palla nera ad esempio una tecnica che forse avevo fatto anche in un corso forse nel corso di Roma la tecnica della palla nera o della massa nera è una è una tecnica molto utile magari poi forse al corso di Milano non so cioè comunque sostanzialmente si immagina una massa nera in un certo punto nel nostro corpo e si immagina che da ogni ispirazione entri un raggio di energia pulita che vada a colpire questa massa nera che rappresenta l'abbandono che rappresenta il rifiuto quello che rappresenta quello che è e questa massa nera piano piano si trasforma in fumo nero dissolto da questo raggio di energia che possiamo emettere fuori togliere con l'espirazione e quindi praticamente piano piano lo sciogliamo e via via diciamo che passa il tempo riusciamo piano piano a piano piano a sciogliere piano piano a scioglierlo piano piano a eliminarlo e via via che lo eliminiamo ci sentiamo sempre meglio ma non è soltanto ah eccola lì Angie non è soltanto una cosa che non è soltanto una cosa che noi possiamo diciamo che serve in quel momento lì per quella situazione lì è un qualcosa che ci servirà poi per sempre nella vita perché iniziamo a familiarizzarci con le nostre emozioni è la cosa fondamentale che dobbiamo imparare a fare per acquisire l'indipendenza emotiva è il familiarizzarsi con le proprie emozioni familiarizzarsi ah Isabella Cancelliera rifacciamo dai Roma lo rifacciamo dobbiamo imparare a familiarizzarci con le nostre emozioni a renderci conto che familiarizzando Flannino ciao Flannino 12 Flannino familiarizzarsi con le nostre emozioni fa sì che il dolore scompaglia e quando il dolore scompare scompare o comunque diminuisce per un effetto che potremmo dire un effetto un po' simile ai vasi comunicanti togli dolore e entra piacere perché questo è importante il piacere è proporzionale all'assenza del dolore nel momento in cui noi togliamo il dolore e automaticamente entra il piacere cosa vuol dire che automaticamente entra il piacere che automaticamente vedremo le cose diversamente avremo una percezione endoscopica di noi stessi diversa avremo una percezione soggettiva perché le percezioni sono tutte per definizione sono soggettive avremo una percezione della nostra vita diversa e ci vedremo come non ci eravamo mai visti prima e cambieranno molte cose è un po' come oh Baghera la Pantera che è la stessa live di prima un'altra live Baghera la Pantera Silvia Sisili non lo sa che ci siamo fidanzati oggi e te non lo sa non lo sa diglielo diglielo perché dopo ci dobbiamo telefonare ha detto ha detto Silvia Sisili che dopo che io stasera devo telefonare a te tutta la notte dice Silvia Sisili non crede che vado al tango Silvia Sisili ma pensa che faccio la telefonata a Baghera esatto esatto fra un po' vi sentite pensa che non è anche il numero di telefono di Baghera la Pantera fra un po' ci sentiamo io e Baghera la Pantera Silvia Sisili così lo diciamo a tutti ma io non so da che pusher vai Silvia Sisili comunque ah vi ho letto oggi ah ok va bene va bene ci ho letto oggi non ce l'ho il tuo numero non ce l'ho mica il tuo numero Baghera la Pantera non ce l'ho non ce l'ho mica il tuo numero comunque ti faccio uno squillo ma già vi siete sentiti eh vedi Silvia Sisili mi fa morire Silvia Sisili mi fa mi fa morire Silvia Sisili è troppo forte comunque andiamo avanti col discorso Silvia Sisili stava scherzando Silvia Sisili stava scherzando ma perché no dipende dal da quanto vino beve più vino beve più scherza secondo me comunque eh esatto tutti i giorni siamo in contatto telepatico però ci sentiamo telepaticamente però perché sinceramente non so neanche come si chiama Baghera la Pantera io vi giuro che non so come si chiama Baghera la Pantera cioè so che si chiama Baghera la Pantera ma il nome proprio di Baghera la Pantera me l'avrei già detto ma non non so come ti chiami però Baghera la Pantera non mi ricordo mai come ti chiami a noi non interessa allora eh andiamo avanti col discorso quindi la cosa la cosa importante la cosa interessante quindi è viversi bene l'emozione non aver paura di viversi l'emozione e questa emozione come diceva prima eh come diceva prima Elvira Lady Elvira può diventare una risorsa perché in realtà è energia in realtà in realtà è energia cioè un'emozione legata all'abbandono in realtà è semplicemente energia che noi possiamo eh canalizzare possiamo utilizzare come risorsa e in effetti nel tantra dicono due o tre cose poi vado a telefonare a Baghera la Pantera perché eh che possiamo perdere tempo dopo appena finita la live telefono a Baghera la Pantera eh allora eh stavo dicendo che eh stavo dicendo che noi possiamo trasformare questa energia in negativo in positivo cioè come la notte si trasforma in giorno come eh diciamo come la notte si trasforma in giorno come nella vita avvengono tutte le trasformazioni noi possiamo anche trasformare la sofferenza in piacere ma veramente la sofferenza si trasforma in piacere perché l'energia dell'abbandono può diventare una forte energia di piacere può diventare una forte energia di piacere l'energia dell'abbandono noi possiamo canalizzarla su delle cose che siano buone e giuste per noi perché tutto quello che è buono e giusto per noi beh in che modo primo punto dobbiamo renderci conto e viverci l'emozione devo vivermi l'emozione non posso rifiutare l'abbandono rifiutare l'abbandono sembra un eufemismo però se l'abbandono vive non devo anestetizzarlo non devo anestetizzarlo in nessun modo me lo devo vivere devo viverlo devo sentirlo devo scioglierlo e questa energia che sciolgo in realtà siccome quando io se ho dentro dell'abbandono e sciolgo l'abbandono al posto dell'abbandono entra altra energia al posto dell'abbandono entrerà un'altra risorsa entrerà esattamente l'opposto qual è l'opposto dell'abbandono della paura dell'abbandono è la forza interiore perché l'opposto di tutte queste diciamo di questo cibo spazzatura è il cibo buono è la polpetta buona sono le risorse interiori è la forza interiore non dobbiamo fare nulla di più che eliminare perché il nostro livello energetico il nostro livello energetico resta sempre allo stesso livello cioè come dicevo all'inizio noi siamo fatti siamo un sistema un ecosistema siamo in cui esiste in cui esiste una forma diciamo di livellamento per legge di livellamento quindi il far bisogno energetico è quello e il sistema ci produce sempre quel livello energetico lì se noi togliamo la sofferenza automaticamente entra il piacere cioè togliendo la sofferenza automaticamente entra il piacere entra l'opposto se io tolgo il rifiuto ottengo l'accettazione se io tolgo la rabbia ottengo la compassione ottengo se io tolgo l'invidia ottengo la pazienza ottengo tutte le risorse e come la togliamo ripeto primo punto è viverla secondo punto ci sono delle tecniche che possono essere o mettere un antidoto o fare un atto di coraggio andando nella direzione opposta o anche delle tecniche meditative che noi possiamo utilizzare come ad esempio quella della palla diciamo della massa nera ci sono diverse tecniche per eliminare l'emozione ma la cosa fondamentale scusate è guardarla senza paura senza averne paura mi rendo conto che c'è non ne ho paura cioè questo già è un atto di coraggio questo è già un atto di coraggio se io mi guardo l'emozione me la sento quello lì è già un atto di coraggio che io faccio è un atto di coraggio che io faccio quest'atto di coraggio che faccio mi consente mi consente di fare veramente un salto quantico mi consente veramente di fare un salto quantico di fare un miglioramento di fare un cambiamento molto forte repentino nella mia vita questo è veramente importante questo è veramente importante riuscire a farlo non avere paura non avere paura di noi stessi non avere paura delle nostre emozioni non avere paura di quello che mi può accadere è come non so se qualcuno di voi ha mai avuto un se qualcuno di voi ha mai avuto a che fare con un cane inferocito allora se tu con un cane inferocito scappi quello ti insegue e ti morde se tu hai a che fare con un cane inferocito un cane così e tu lo guardi negli occhi e non muovi un passo il cane non ti attacca il cane non ti attacca proprio il cane se tu stai fermo e lo guardi negli occhi il cane non ti attacca vale anche per lo squalo non lo so io non gli squali non li frequento tanto però il cane mi è capitato il cane tu stai fermo e non deve avere paura stai fermo tranquillo rilassato lo guardi negli occhi quello digrigna un po' i denti poi muove la coda e se ne va via e questo è la stessa l'emozione uguale l'emozione uguale perché un cane è emotivo un cane un cane è emotivo è esattamente la stessa cosa se tu l'emozione la guardi negli occhi e non hai paura e dimostri non avere paura ma è la stessa cosa che avviene nelle sedute spiritiche cioè chi non so qualcuno di voi ha esperienze infatti per una decina d'anni le sedute spiritiche quando si manifesta un'entità se tu hai paura di quell'entità lì rischi la possessione o rischi comunque di avere delle conseguenze se tu non hai paura e la guardi negli occhi ascolti fai domande può venire anche il demonio diciamo tra virgolette che non ti può fare assolutamente nulla noi abbiamo molte più forze molte più risorse di quelle che crediamo di avere bene è ora è ora che telefono a Baghera la Pantera quindi vi ricordo l'appuntamento Torino venerdì 22 febbraio ore 21 Milano 3 marzo dalle 9.30 alle 19 allora l'appuntamento di Torino riguarderà l'appuntamento di Torino riguarda l'appuntamento di Torino riguarda la PNL programmazione neurolinguistica applicata al benessere e alla seduzione poi Milano un full immersion dalle 9.30 alle 19 e Roma un full immersion il 7 aprile dalle 9.30 alle 19 e il riferimento è sempre 333 15 11 703 adesso vi saluto vado ho già il telefono pronto per telefonare a Baghera la Pantera Baghera la Pantera mettiti pronta che ci facciamo una bella telefonata tutta la notte tutta la notte a telefonare a Baghera la Pantera bene un saluto a tutti un saluto a tutti un saluto a tutti e me ne vado dalle carampane del tango ciao a tutti buona buona serata a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti